Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Lunedì prossimo, 6 maggio, sciopero del trasporto pubblico a Roma e nel Lazio. Saranno possibili stop dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio su bus, filobus, tram, metropolitane e sulle ferrovie Termini Centocelle, metromare e Roma Nord. Nella notte tra domenica e lunedì saranno a rischio le linee di bus N. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sullo sciopero di lunedì 6 maggio sono su